Tanta allegria, tanta gioia nel nome di San Nicola, però è chiaro che la preghierina va fatta sempre, anzi è la prima tappa del barese San Nicola, lo vedi dove sta? Quando è bello, quando è bello, ti quando è bello. Perché coloro che sono essi partecipi della passione di Cristo nella malattia e nella sofferenza possano con la speciale protezione di San Nicola sentire i benefici dell'aiuto divino, preghiamo. Come stai? Tutto a posto? Un caffè? Tu a me un caffè? Dopo? No, perché? Non è che me la puoi prestare, facciamo noi... Mi raccomando, una foto? Sì, vai, dai, vai. Ciao, ciao Carlo, tu fai la foto con lui, lui fa la foto con me, ognuno fa... No, 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 con me, con me, con me. Ce la mai fai di Babbo Natale? Che dobbiamo farne di Babbo Natale? No, io ti seguo sempre. Vai, lo so, anch'io, vai col selfie, lascia per il Babbo Natale un attimo, dai. Vai, sei iscritto a Quinto Potere? Certo, sono iscritto. Vai, una foto con Antonio e uno con Babbo Natale. Guarda che bel quadretto, uno di fronte all'altro, stiamo. L'hai fatta? Che su da Topolino... Lo Conte, chi è? Come stai? Evviva San Nicola, diamo un messaggio distensivo alla città di Bari, ai baresi. I baresi, quest'anno mi stanno piacendo che sono venuti in tanti a vedere San Nicola e oggi esce la statua. Esce la statua di San Nicola. A proposito di San Nicola, guarda. Guardate le vostre spalle. Eccolo, arriva, volevo non trovarlo e invece lui ha trovato me. Ce la fai, lo devo fare per forza. San Nicola, come stai? Come stai? Ciao! Come sta? Come sta? Tino, è una grande festa, è una grande festa. Tre. Che cosa sono? Tre miracoli. Tre miracoli. E sono? E sono? Quali sono? I miracoli che è dei bambini, del macellaio che ammazzò i tre bambini. Te fai stanco, Jair, ti vedo stanco. Siamo da ieri sera. Da ieri sera sei così? Sto sempre girando. Sempre, ti vedo veramente stanco. Per San Nicola, non questo, ma ha pure altre cose. Basta, mi chiudo qua. Ciao. Ciao! Ma si è lasciato come la zia di cecchia? No. Mi hai lasciato come la sposta di cecchia? No, ma la zia di cecchia è affortunato io. Perché? Perché alla mattina alle quattro, già stai a porto di San Nicola. Quindi, non è che io ti ho lasciato che sia la zia di cecchia. No, tu sei una brava persona. C'avevo l'acquolire in bocca, mi devi raccontare tutto, invece non mi ha raccontato niente. Vabbè. Poco è buono. Poco è buono. Si vede che sei stanco, Jair. Si vede che sei stanco. Va bene. Tino, è un macellaio. Comunque sei un grain. Grazie, grazie. Con i corridori famosi. Vai, vai. Iscrivetevi a quinto potere. Tu sei già iscritto. Sì, fai la foto a Sber. Vai. È giustamente la foto. Ma fai o no? Sì, sì, ragazzi. Aspettate. Ti avevo detto, non andiamo. Non ci perdiamo servizio. Grazie, grazie. Significa molto per noi. Sei bravo, sei bravo. Vai, ci siete? Vai. Vai, braccio da là. Vai, tutti e tre. Grazie, Antonio. Buon lavoro. Vai, ci siete? Vai, tu vai, aspetta, aspetta. Sì, sì, scusate. Dai, col giovane, col giovane. Una volta. Vai, ecco. Vai, vai. A posto. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Dimitino. Manca Raul Bova. Neanche Raul Bova. Manca Raul Bova. C'è una maffa. C'è una maffa della Raul Bova. E allora? No, ti ho chiesto. Che cosa? Bello, che fa? E così te... No, dai, grazie, non dovevo. Come? E hai detto, te l'ho presa per te? Antonio di qua, Antonio di là, poi ti prendo la focaccia e me la dai. E che razza di fan sei? Questo l'ho comprato io, eh. Ma questo mi vuole fregare pizza. Bing, cosa te? Come si chiama? Bing. Bing, ti chiami Bing? Ma hai una voce, Bing? La vogliamo fare uno scoop mondial, Bing? Di qualcosa. Di viva San Nicola, dai. Viva San Nicola! No, perché? Viva Topolino. No, ciao. Hai una voce, di una... Grazie, che bello, che bello, Tino. Che bello l'abbraccio di Topolino, Tino. E' pure di Bing, non essere geloso, pure di Bing, pure di Bing. Quanto si lavora di più oggi? Tre ore di più. Tre ore di più, straordinario. Tutto straordinario, vi paga bene il nuovo presidente, straordinario. Quanto vi dà di straordinario? Quanto vi dà di straordinario? Parlo con lui, parlo con lui, non si capisce più niente. Eppure fanno un lavoro importantissimo in queste giornate i nostri amici, è vero? Non c'erano loro. Ogni tanto, dì, di pulire le caditoie, che là si intastano e quando piove si allaga, capito? E così, approfittiamo, pubblico servizio. Andiamo. Com'è gratis, eh? Com'è gratis, com'è gratis, se l'ha fatta com'è gratis. Dici tu, però, non sei vestito da Babbo Natale. No, non ti preoccupare. Vabbè, comunque. Buongiorno. No, lo devo fare anch'io, eh? Prego. No, no, dico, lo devo fare anch'io. Ci vuoi sembra Babbo Natale? Facciamo una cosa. Sì, facciamo qualcosa di lost. No, sulla fotografia, va bene. Bellissimi, come si chiamano? Gaia Vincenzo. Gaia Vincenzo. Hai avuto la fortuna, 1 e 1, eh? È vero? Sì, ho altre due femminucce anche. Sono quattro solo. Aspetta, aspetta, tino. No, sì, ma manderei io a te. No, ma io ho avuto, già mi medesimavo in te. Come fai? Come fai? Io ho fatto, quando le faccio le cose, faccio a doppio. Beh, devo fare giusto. Nel nome di Sanicor.